Luciano De Cecco e Francesca Ferretti, a Piacenza in due giorni due vittorie avete ottenuto? Sì, almeno lei ieri e io oggi, quindi siamo abbastanza contenti, andiamo a casa tranquilli. Francesca? Sì esatto, per noi è stato ancora più importante perché arrivavamo da una settimana un po' difficile, quindi bene così. Sì, allora a Piacenza quindi due alzatori sotto rete, uno gioca nel maschile e uno gioca nel femminile, questo ovviamente è scontato, però è successo qualcosa in più quando vi siete trovati a Piacenza, no? Sì, da poco ci siamo conosciuti, siamo fidanzati, niente, siamo qua a Piacenza insieme, alleniamo uno prima e l'altro dopo, quindi viviamo qua così e ci siamo abituati. E' uguale anch'io, ci siamo conosciuti così, uscendo un po' in gruppo e ci siamo fidanzati e niente, ci vediamo più in palestra che fuori sinceramente, quindi è anche il nostro lavoro, siamo abituati a questi ritmi. Allora Luciano raccontaci un po' com'è Francesca lontana dalla palestra. Beh, tranquilla, ci piace fare le stesse cose, stare a casa tranquilli senza fare tanti casini, non si parla di palavolo quando si esce di questo palazzo, quindi facciamo la vita un po' più semplice. E niente, come ha detto lei, ci vediamo più qua che fuori perché gli orari ormai sono a metà, quindi io mi ero nelle tre, lei alle sei, quindi c'è una frange di sei, di cinque, sei ore che non ci vediamo. E niente, dopo a casa, come ho detto prima, si parla di palavolo, si parla di altro e niente, ci rilassiamo lo più possibile perché siamo adesso tanto in viaggio, quindi ci vediamo poco. Luciano invece ha una testa calda fuori dal campo, è un personaggio tranquillo. No, assolutamente, ama il divano, ama la tv, rilassarsi, è vero, ci piace fare le stesse cose che è dormire quando è possibile, riposarci e se c'è bel tempo, cosa difficile qua a Piacenza, fare due passi fuori. Per il momento, poi più avanti? Per il momento il sole si è visto poco, più la nebbia diciamo. Allora Luciano però, chi è l'alzatore più forte fra te e lei? Eh vai, giochiamo a palavolo diversi nel mio modo di vedere, quindi niente, se io le dico che è lei, lei mi dice che sono io, quindi lasciamolo a metà e metà. Tu cosa dici? Ah, non c'è dubbio lui, cioè, si sa che è uno dei più forti al mondo, non vuole che glielo dica, ma glielo dico. È vero, comunque è una palavolo diversa, cioè è molto più fisica, più veloce, però lui è più forte sicuro. Ma vi date qualche consiglio, al di là del fatto che hai detto che a casa parlate poco di pallavolo, però è anche vero che vi vedete più in palestra che a casa, quindi magari quando vi vedete qui o alla fine delle partite vi date qualche consiglio? No, pochissimo, vabbè io ieri l'ho fatto un appunto, però era soltanto per capire un po' cosa le hai detto. La situazione, sono andato a Bergamo nella partita, è una situazione che erano un po' impalate, le ho chiesto perché non fate questo e lei dopo mi ha spiegato, quindi però mai, sinceramente no, non mi permetto di dire niente, perché come ho detto prima, è una palavola diversa e lei è abbastanza grande, brava, ha vinto più di me, quindi io non le posso dire quasi niente, quindi mi limito a vederla, a salutarla e a fare il mio sopporto sempre che posso. Quindi tu che hai vinto di più, qualche consiglio invece glielo puoi dare? No, guarda sinceramente più che consigli tecnici parliamo magari del come affrontare le sconfitte, o sai un palaggiatore comunque ha sempre più peso sulle spalle, parliamo un pochino di quello, però veramente parliamo poco, solo se uno magari inizia il discorso, allora lì magari arriva qualcosa, però io poi a lui non ho da dirgli niente sinceramente. Senti, dove arriva questa Rebecca in ormeccanica secondo te? Beh, ieri le ho viste giocare veramente bene, le poche partite le ho viste, sono due con Cipro che veramente non c'è stata neanche partita, una sono arrivata anche 5 metri prima che finisce, dopo lei non era in campo all'inizio che era infortunata, quindi se la vassi diciamo c'è, le giocatrici in teoria del livello, dei nomi ci sono, quindi fare un gruppo penso che è lo più difficile a questi tempi qua. Io li vedo bene, speriamo che facciano il bene per la società, perché se la merita, se lavorano veramente tanto e speriamo di vederla anche fino alla fine. E questo copra Elior secondo te? Beh, a nomi è fortissima come squadra, però si sa che a volte i nomi non bastano, stanno giocando bene anche loro, io ho visto parecchie partite, quando gira la ricezione veramente possono fare di tutto. Si sa che c'è Trento che forse sembra imbattibile, ma così ancora forse lo sta diventando un po' meno, anche loro lavorano tanto, hanno una panchina che è lunghissima, che può aiutare in ogni momento, quindi se lavorano bene e continuano così, posso arrivare lontano.